quindi ben ragazzi io sono gisus non mi si vede non so neanche se si vedrà rola perché lo scopriremo solo a fine video comunque c'è rola con me ciao rola ciao ragazzi altri si chiamato simorg ma vabbè e siamo su showdown sono le 20 e 55 sto morendo di sonno mi sembra buona idea andare su vgc 2017 con questo team che abbiamo fatto noi concordo cioè noi io ho aggiunto una mossa poi non l'ha fatto il resto andiamo a esplicare il team prima di lottare tapulele ha più di quattro mosse tutti i pokemon hanno più di quattro mosse va bene forse forse perché tipo hai messo due mosse nella stessa slot tipo protect moon blast nella stessa slot no psychic pro è tutto giusto non ho cambiato niente però non lo so si droga e come fa avere più di quattro mosse aspetta cosa succede perché showdown esplode perché showdown esplode così tanto facciamo che chiudo un attimo showdown e lo riapriamo di showdown comunque adesso che registreremo faremo zero vittoria prevo perché ha più di quattro mosse non è vero ma guarda allora allora import export in alto a destra si è tutto giusto non ci sono cinque mosse neanche lì no e allora non lo so allora aspetta ti mando il mio export text su skype quando poi vuoi registrare sono i webcam ciao sono orribile tra voi no perché l'organizzata ci sei sto modificando contro di save abbiamo più di quattro mosse non è che magari tra un po come nell'altro non c'è lo spazio ma non mi darebbe errore se non c'è lo spazio magari ti conta tutto come quinta mossa c'è lo spazio e adesso mi ha messo tutto adesso ho fatto ho tolto gli spazi e ho messo solo da pulele e mi sto solo da pulele che ha dentro che ha dentro devi farli però fare due spazi non lo so perché lele c'è da pulele non può avere il beast boost devi portare forse è meglio che fai un pochino più di spazio lo devo rifare a mano lo rifaccio a mano c'è oh vediamo se me lo valida ok me lo valida manca cartana no grazie no manca anche manca un altro manca anche arcanine allora arcanine ciò aspetta 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 lo chiamiamo lo chiamiamo speriamo funzioni ecco la intro la tieni quindi cominciamo così a cazzo a più di quattro mosse ma perché ma non è che stai selezionando il formato e tre mosse ho lì non so più cosa dire sei in voci 17 io provo a dare tipo protect a cartana non vorrei veramente che sia quello no è utile a qualcosa prima avevo quattro pokemon e me lo non ho idea con 5 no con 5 non gli va bene allora ma che problemi ha no ragazzi non tutti più di quattro nomi io sono al limite va dai andiamo di rata io direi di fare il settimo gemma poi andare giù con le generazioni andiamo giù ogni vittoria si scala di generazione ci siamo magmurtar conto it mo chan e mandami l'invite che se no non ti trovo mai nel random battle perché ce ne sono troppe ciò azzerina beartica aurorus doxapex vaporeon quindi tipo dai andiamo di flare 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 a fire blast che cos'è fire blast fuocobomba 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 quanto ho fatto di danno dai fire blast io credo nella fire blast ah è pure life form poi it mo chan però se avesse intato quel fire blast per me sarebbe morte a 120 secondi rimanenti qualcuno per favore diminuisca il timer delle random battle minchia grazie per una mossa e di farglielo giù qualcosa su una seconda camera aspetta si è locato sul traggio c'è esatto faccio il bunker faccio il bunker dovrebbe avvelenarsi ti confondi vero si il turno dopo si confonde ora è confuso meno male non è vero perché non è confuso non ne ho la minima idea non dirmi che sei esatto sul sito però può conoscendosi no lui fa quattro volte oltraggio non sappia perché non si è confuso quanti problemi e non ha neanche mangiato la vacca cioè se si fosse confuso avrebbe mangiato la vacca si sarebbe visto fa niente proprio cioè è una mossa a ghiaccio o icebeam eh ho usato ma perché lui continua a fare oltraggio ma sei confuso adesso ciao critico superifica tutto lui critico critico su get power su magneton utilissimo che musica vogliamo quella di n lake ah ok n raquanid avvelenato però metto anche io una musica bella di pokemon zitto c'è da non ti voglio mi ha fatto mi ha fatto riloccare su earth power eh rimetti toxopex tanto non ti fa nulla che ha rigenergia crunch ahia ah dobbiamo predictare della serie secondo me nessuno rimette jonton e tu vai ti scaldi ignorante no liquidation painful bunker si si anche se lui adesso secondo me switcherà non ha switchato non ha switchato abbiamo detto assieme ma che belli che sia cazzo è finita la grandine nooo aurorus eh vai di scaldi mi stavo mi stavo uccidendo no no vai di scaldi se fai liquidation se fai liquidation ci ammazza di botte mi stavo uccidendo io ecco pure la difesa calata e chi è il suo ultimo allora turno 35 e tutto va bene sai che penso che non lo reggiamo un altro moonblast devi tentare il painful bunker secondo della vittoria no c'ha jolton poi dai che entra me lo sento che entra me lo sento che entra vai 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 no tanto muore anche lui crit non è morto ok è morto per la grandine grazie dipende da che mosse sa fare jolton ce l'hai una protezione si certo sono specs eh sei spec eh vai di bora c'ho anche art power io eh si intanto è uguale grande aurorus 37 turni di battaglia 30 aurorus con 2% di vita questa è stata bellissima bellissima aurorus che regge a 2% bella oh mio dio bellissimo cioè scusa ma scusa un attimo questo kingdra che cosa ha in mente esattamente che ha sia oltraggio che dragobolide cazzo ma scusa ma kingdra ha 186 di attacco 186 di difesa 186 di special attack si lo so le random battles sono tutte così tutti pochi e le statistiche bilanciatissime ah fai gli idropompa e ho waterfall e idropompa ah vabbè è uguale bram tipo sei choice qualcosa tipo però no no leftovers 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 con il sostituto tipo eh metti il timer si grazie perché tanto è 2 minuti di time cioè 3 minuti e 40 di time di totale sarà un video corto da montare dicevano ci divertiremo dicevano eh 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 dai fiamma questo qua sono tutti i 120 secondi guardalo guarda che si fa una mossa alla fine io quitto cioè si fa una mossa adesso che manca 10 io quitto eh ma grazie oh meno male ah no tu che hai? vabbè andrà una sola intro di che tipo è intro forza? psichic psichic cioè psico ah pigli e stab eh eh minchia no Samuroth Dusk Noir Undom Tundurus Kyurem Nero cioè hai fatto l'abbonamento a Kyurem si però no Kyurem Nero 1 e 2 Undom la Undomite e e bello vai dentro forza e c'ho i specs a 301 di special attacks to Annun chi è c'ho i specs? easy si Annun e c'ho i specs bello minchia non hai fatto un cazzo eh ciao è pure l'i-form qualcosa vai vai no voglio vedere uno che è più veloce di lui figa sai che è nascita più veloce di lui bella madonna ma perché la gente è qui ma sei ma sei ah no ma ho Sucker Punch che è super è super efficace e lui è Wonder Guard si ma gli Sucker Punch come ha fallito? Willowisp ha fallito eh non ha fatto una mossa che toglie ho faccio Toxic allora perché se fa ancora Willowisp comunque abbiamo Zygarde Forma Cane Bow Bow Kyurem Ancora Kyurem Ancora normale Incineroar B-Sharp e Schermani Toxic ho pensato Willowisp Burna ovvio ue 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 adesso vai di Sucker Punch no io vado di Toxic vaffanculo intanto Switch è meglio è meglio esatto è tipo veleno è tipo veleno confi nooo è tipo il mio amore peggiore bene allora aspetta la premessa è una Ghirlanda con una Ghirlanda e vince la Ghirlanda ma vince la Ghirlanda e io metto Schermori che non ha mosso di tipo acciaio Brave Bird, Stealth Rock, Wire Wind e Spikes se io metto Stealth Rock e Spikes nooo se metti ok adesso se switch avvia se ninja è morto metto anche le Spikes io no faccio Brave Bird così almeno no guarda che se ninja c'è di morto faccio Brave Bird si ah i Brave Bird bam bam non subisco al sesh uuuuuff e adesso funziona una volta al sesce non è che è bello che ho preso perchè mi ha detto perchè mi ha detto che ho preso 0 recuperato 0 gg non ti dirmi che ti arrendi eh ma scusa qual è quello è il 25% di uno ma perchè si arrendono tutti perchè dissi perchè sei fortissimo no secondo me la musica migliore che io abbia mai sentito in Pokemon che mi trasmette tutto l'odio che deve trasmettermi è quella del dei tre dei dei di Huximax è troppo bella è troppo bella perchè ti dà ti dà proprio il senso della battaglia tipo ti dice esatto ma riusciamo a finirne una senza che l'avversaggio qui ti pesantemente non lo so, aspetta che parte il drop anche dai che una sta partendo e partiamo di Electrode contro Raichu Raichu ha ancora la fulminetta Raichu Alola ah no, Alola no esplode se non posso farlo ho l'experbelto o fullplay è super efficace fullplay eh lo so, se no ho Malamar Alomola, Regiroc, Lantur c'ho anche Lantur però che assorbe a volte no vabbè non credo facciamo se elettro su Electrode vedi fullplay eh, parliamone buona ma perché comunque ragazzi volevo dirvi anzi quasi quasi lo dico anche a Rola Rola mi ha fatto trovare un gioco molto molto bello che non mi ricordo il nome che era Pokémon non mi ricordo il nome Rola qual'era? quello che mi ha fatto scaricare che ho perso 8 o 18 anni per scaricarti ah, Pokémon Insurgents Pokémon Insurgents perfetto ehm quello lì forse si può usare in live visto che è un gioco a fullscreen si può fare in live con il software che uso per Airstone quindi si potrebbe fare una Nuzlocke su Pokémon Insurgents sì tanto la tanto te lo randomizzo cioè già il gioco ti dà l'opportunità di randomizzarlo quindi non devi scaricare nulla esatto esatto ma più che altro c'è spero non laggera troppo eh io ti avviso che è molto difficile ti avviso è difficile? o lagga? no no il gioco proprio è molto difficile ok va bene molto interessante bisogna stare molto attenti e fare davvero le mosse cioè non fare come nelle avventure di attaccare a caso ma di pensare alle mosse se no ok quindi ci fermiamo qua e noi ci vediamo in un prossimo video quindi bello ragazzi saluto a Rola ciao ragazzi mi hai ucciso i timpani bastardo